Salve sia ai vecchi che ai nuovi visitatori del canale, io sono Jul e oggi come di consueto sono qui per proporvi la mia analisi banner dedicata ai prossimi banner evento in arrivo su Genshin Impact. Questa analisi banner sarà più speciale delle altre poiché sarà la prima fatta in lingua italiana. Siamo infatti sulla pagina di OioLab completamente dedicata ai nuovi eventi di evocazione in arrivo e vi leggerò per bene tutte le informazioni rigorosamente tradotte in italiano che Oioverse ci ha concesso di sapere prima dell'arrivo effettivo dei banner che ricordo a tutti avverrà questo mercoledì 7 dicembre subito dopo la manutenzione notturna pertanto i banner saranno disponibili sin dalla mattina. I banner in arrivo sono da un lato il banner con il rate up del nuovissimo personaggio a 5 stelle evento in arrivo in gioco ovvero Vagabondo personaggio a 5 stelle di elemento animo che utilizza i tomi cioè la magia mentre dall'altro lato con la solita struttura dei banner gemelli abbiamo il banner di Aratakito personaggio a 5 stelle di elemento geo che utilizza gli spadoni cioè le Claymore perché mi pare di aver capito che il termine Claymore sarà mantenuto anche in italiano. In entrambi questi banner ci sarà inoltre un nuovissimo personaggio a 4 stelle in rate up cioè Faru Zan personaggio di elemento animo che utilizza l'arco e piccola parentesi su Faru Zan io non so se sia un errore di trascrizione immagino di sì ma nelle descrizioni di questi banner è indicata come Faru Zan. What? Prevedo che sia un errore di traduzione anche perché mi risulta che i nomi dei personaggi non siano stati in alcun modo toccati. Allora iniziamo leggendo il trafiletto dedicato a questi banner vi leggo solo quello del Vagabondo poi sappiate che è idem con patate anche per quanto riguarda Itto a parte ovviamente il 5 stelle con probabilità aumentata di uscire che se in questo caso è il Vagabondo nel caso dell'altro banner è ovviamente Aratakito. Dettagli desiderio il banner evento personaggio in italiano si chiamerà desiderio evento personaggio rinato dalle ceneri nuovo desiderio disponibile quindi i banner si chiameranno desiderio credo che manterrò il termine banner perché è un pochino più chiaro però sappiate che anche desiderio è un termine che dall'uscita dell'italiano in poi verrà utilizzato. Durante l'evento il tasso di ottenimento del personaggio da 5 stelle esclusivo dell'evento ovvero Vagabondo sarà molto più alto ricordo a tutti che avrete infatti il 50% di ottenere Vagabondo quando raggiungerete la magica evocazione che vi farà ottenere il 5 stelle. Durante l'evento inoltre il tasso di ottenimento dei personaggi a 4 stelle Faru Zan, Goro e Yanfei sarà molto più alto ovvero se doveste trovare un 4 stelle ci saranno possibilità molto alte che sarà uno di questi tre. A questo punto ragazzi purtroppo vi devo segnalare un errore di traduzione e come ho già avuto modo di dirvi nel precedente video dedicato alle localizzazioni italiane queste cose mi stanno abbastanza sulle balle perché sono gravine. Allora questa parte qui ve la leggo durante l'evento il personaggio da 4 stelle Faru Zan potrà essere ottenuto tramite il desiderio standard evocazione Vagabondante è falsa è sbagliata qui hanno tradotto male questa parte qui la parte di durante l'evento. Stando a quello che c'è scritto qui Faru Zan sarà ottenibile nel banner base che è il desiderio standard già dall'inizio della patch 3.3 ma questo è sbagliato Faru Zan fintanto che il banner di Vagabondo e di Itto sarà presente in gioco sarà ottenibile solo in questo banner nel banner base per poter avere possibilità sebbene esigue ma esistenti di trovare Faru Zan dovrete aspettare che il suo rate up finisca. Infatti se cambiate questa pagina dalla lingua italiana alla lingua inglese questo durante l'evento non è durante l'evento in inglese è after the event ends o una roba del genere quindi è proprio un errore di traduzione non fatevi ingannare non è che le cose sono cambiate i personaggi a 4 stelle che debuttano in gioco diventano ottenibili nel banner base solo dopo il loro primo rate up è stato così per tutti i 4 stelle per ora e sarà così anche per Faru Zan. È invece vero quanto specificato qui in rosso ovvero che tra i personaggi elencati sopra il personaggio esclusivo dell'evento non potrà essere ottenuto tramite il desiderio standard ovvero Scaramouche il Vagabondo è un personaggio evento e quindi non sarà mai ottenibile tramite il banner base. Per quanto riguarda invece il banner armi e qui possiamo vedere nuovi sprazzi di traduzioni italiane io amo Spaccarocce Corno Rosso oh mio dio la traduzione della Redorn è bellissima Spaccarocce Corno Rosso non vedo l'ora di darla a Noelle in italiano andiamo a cornorossare tutti che bello. Per quanto riguarda il banner armi di nuovo il funzionamento sarà il medesimo avete due armi entrambe limitate in questo caso e che dunque non sono reperibili tramite il banner standard che si trovano in rate up in questo speciale banner evento abbiamo la rimembranza di Tullia Tulla e la Spaccarocce Corno Rosso. Avete il 70% di probabilità di trovare una di queste armi in rate up e quindi abbiamo un rate up che è più forte rispetto a quello nel banner personaggio che è del 50% e poi abbiamo tra le armi a 4 stelle la pinna del frangionde abbiamo la spada sacrificale lo spadone di Favonius l'occhio della percezione e arco da guerra di Favonius. Esattamente come avviene con i personaggi a 4 stelle tutte queste armi a 4 stelle avranno probabilità superiori di essere evocate. Due velocissime premesse prima di iniziare con l'analisi banner mi raccomando nel caso in cui vogliate rimanere aggiornati su tutte le mie future pubblicazioni sia a tema Genshin che non iscrivetevi al mio canale youtube attivate la campanellina e così facendo non vi perderete mezza delle mie prossime pubblicazioni. Date anche un'occhiata alla mia descrizione video dove troverete i links a tutti i miei social venite a seguirmi in particolare sul sito viola il sito delle live dove sono i live minimo 4 volte a settimana e poi vi ricordo anche che per tutto il mese di dicembre è attivo il mio giveaway con instant gaming. Avrete la possibilità di vincere un gioco a vostra scelta vi basterà cliccare sul link che vi lascio sia nel commento pinnato che in descrizione selezionare il gioco che preferite e tra parentesi troverete anche indicata la console del gioco in questione poi vi scrivete gratuitamente e se sarete fortunelli vi portate a casa il gioco. È il periodo di Natale il periodo in cui è bene fare regali sia agli altri ma soprattutto a noi stessi per cui approfittatene mi raccomando cliccate cliccate cliccate. Ora parliamo in ordine dei banner e vi dirò quello che ne penso. Iniziamo dai banner gemelli di Itto e del Wanderer cioè del Vagabondo allora sia di Ratak Itto che del Vagabondo ho già parlato in numerosi video ve ne metto alcuni in schermo ne troverete anche probabilmente nella descrizione video in particolare vi segnalo l'analisi preliminare che ho realizzato per quanto riguarda i talenti del Vagabondo che abbiamo già avuto modo di sbirciare tramite le anticipazioni di Oioverse. Allora questi 5 stelle secondo me sono entrambi molto buoni ne ho già parlato nel video dedicato a tutti i 5 stelle in uscita nella 3.3 sono entrambi degli attaccanti di punta hanno due elementi che sono agli antipodi perché il Vagabondo è un attaccante Anemo mentre Itto è un attaccante Geo. Itto è molto egoista gioca bene quasi principalmente con altri alleati di tipo Geo mentre al contrario il Vagabondo sembrerebbe essere un personaggio giocabile con molte più formazioni quindi molto più versatile e poi la differenza lampante è che da un lato il Vagabondo è un personaggio studiato per giocare con la meccanica delle reazioni elementali. Può fare reazione con Hydro con Pyro con Krio con Electro eccetera eccetera mentre Itto non fa reazione di base con niente perché il Geo gioca da per sé e quindi scegliete quale dei due attaccanti evocare anche sulla base delle vostre preferenze personali. Se amate molto la struttura di reazioni elementali di Genshin e vi piace vedere gli elementi che si incrociano il Vagabondo è decisamente più adatto a voi rispetto a Itto. Se invece quello che vi interessa è menare a bestia e chi se ne frega degli elementi e chi se ne frega di avere team con elementi vari allora Itto può fare per voi. Tra l'altro Itto è un attaccante molto adatto ai nuovi giocatori in quanto semplice sia da costruire che da utilizzare. Per quanto riguarda i 4 stelle inizierò parlando di Faruzan della quale non sappiamo ancora nulla. Realizzerò un video analisi preliminare anche su di lei ma prima dobbiamo aspettare che Oiovers ci dia le informazioni. Per il momento sembrerebbe un supporto animo legato al Vagabondo esattamente come Goro è legato a Itto e Sara è legata a Raiden e quindi immagino che sarà un buon personaggio da abbinare proprio al nostro Vagabondo. Altro non posso dire poiché mancano le informazioni ufficiali. È un arco e questo sicuramente è un pregio per quanto riguarda i supporti poiché di archi di supporto forti ne abbiamo vari. Poi Goro. Allora Goro è un personaggio a 4 stelle fondamentale nel caso in cui giochiate un attaccante Geo. Ovvero nello specifico o Itto o Noelle o eventualmente un albedo particolarmente tirato su. Devo escludere da questo discorso la povera Ningguan perché Ningguan purtroppo non utilizza i buff di Goro. Ningguan è al momento l'unico personaggio nato come attaccante Geo quindi come ruolo principale quello di essere un attaccante di punta che non sfrutta la difesa come statistica per fare danno. E quindi Goro è pressoché inutile se giocate Ningguan. Goro è da avere nel caso in cui vogliate giocare Itto ma nel caso in cui non vi interessino le formazioni specifiche sul Geo lui è abbastanza inutile poiché i vantaggi che apporta la formazione sono strettamente legati al suo elemento di appartenenza. Quindi vi piace Itto? Vi piace Noelle? Goro è da avere. Le costellazioni lo aiutano ma non sono nemmeno fondamentali. Vi basta una copia di questo cagnetto. Non vi interessa giocare il Geo? Goro è inutile. E dulcesi in fondo abbiamo Ianfei, devo dire un ultimo membro di questo trio che si difende ancora abbastanza bene all'interno del meta di Genshin. Scusate se continuo a grattarmi ma ho dei peli di gatto che mi girano per la faccia. Ianfei è un attaccante Pyro abbastanza semplice da utilizzare e che gode tra l'altro molto delle costellazioni. In particolare di quella che le permette di autocrearsi uno scudo e dunque di diventare molto più solida dal punto di vista della sostenibilità in combattimento al contrario della povera Klee. Questo è uno dei rarissimi casi in gioco di personaggio a 4 stelle che allo stato attuale di registrazione di questo video ritengo più conveniente della sua controparte a 5 stelle. Ianfei infatti soprattutto se costellata è generalmente superiore a Klee. Più semplice da maneggiare, i danni non mancano, si mette scudo da sola, ottima sinergia. Non solo con diversi set di artefatti ma anche con diversi supporti funziona benissimo in un'eventuale formazione Vaporize abbinata a Sincho, Yelan o anche Mona. È un attaccante che non vi metto tra i top dei top dell'elemento Pyro, secondo me non è minimamente a livello di Utao e anche Yoimiya se la gioca molto bene. Secondo me Yoimiya se la vostra Ianfei EC0 è comunque superiore a lei. Viceversa secondo me Ianfei tiene tranquillamente testa sia a Diluc che a Klee ed è quindi un'ottima alternativa per tutti coloro che non possiedono Utao o Yoimiya e che vogliono provare un attaccante Pyro. Nel complesso vi devo dire che questi due banner a me piacciono perché sono sia indicati ai principianti, i due 5 stelle sono perfetti per iniziare l'esperienza su Genshin e anche Ianfei rappresenta un terzo attaccante che può piacere molto a un neofita, però abbiamo anche qualche chicca per i giocatori più veterani o comunque che ricercano un'esperienza più peculiare di gioco. Goro è come già detto un supporto molto di nicchia ma che è fondamentale per la sua nicchia, mentre Faruzan è un personaggio nuovo e che dunque manca a tutti i giocatori anche a quelli che giocano di più a Genshin e al contempo sembrerebbe essere un personaggio al momento senza rivali poiché non abbiamo altri supporti animo in grado di apportare i vantaggi al team che per il momento sappiamo apporterà Faruzan. Per quanto riguarda il banner army, allora iniziamo dalle 4 stelle, questa volta voglio andare al contrario, lasciamo l'ovvio per ultimo. Tra le 4 stelle ci sono delle chicche, però vi devo dire che in generale come line-up non è delle più solide. Abbiamo un ottimo arco di Favonius, arco da guerra di Favonius, si chiama in italiano. L'arco da guerra di Favonius è un arco che deve diventare il migliore amico di tutti i vostri supporti, in particolare se difensivi. Volete rendere la vostra Diona più brava nel creare energia per la vostra formazione? Le date l'arco di Favonius. Volete fare lo stesso con il vostro Gorò? Gli date l'arco di Favonius. Volete magari rendere la vostra futura Faruzan? Un supporto più solido per il vostro vagabondo e permetterle di produrre più particelle? Arco di Favonius. Perché mi direte voi? Perché l'arco da guerra di Favonius ha questo effetto straordinario che se crittate con il vostro personaggio che utilizza quest'arco avete una percentuale di ottenere delle particelle in più. Quindi vi basta investire un minimo sul tasso critico del personaggio che lo impugna e a questo punto avrete una semi-batteria in più all'interno della formazione. Inoltre vi dà Energy Recharge come seconda statistica e l'Energy Recharge ovvero la ricarica energetica, scusatemi devo abituarmi a usare i termini in italiano mi ci vorrà un po', è una statistica che è basilare per tutti i supporti che vi ho citato e non solo, anche per molti altri. Altra arma che mi piace molto è la spada sacrificale, la miglior arma da dare a Sin Chou, veramente impareggiabile sul bimbo acqua, è una spada che sicuramente risulta utile anche su supporti che potranno uscire in futuro. Dal momento in cui avete un supporto che volete utilizzi più spesso la sua abilità elementale, questa spada fa per voi. Può essere utilizzata anche con Leila, nel caso in cui non abbiate ancora degli artefatti su di lei che le permettano di avere degli scudi grossi, allora può essere un'idea riciclare il vostro scudo più volte, anche perché senza scudo Leila non funziona, e poi sicuramente usciranno in futuro altri supporti spada che godranno di questa armetta qui. Vi dà anche Energy Recharge come seconda statistica, stesso discorso dell'arco. Poi cito anche lo spadone di Favonius che ha lo stesso effetto dell'arco di Favonius, quindi vi dà Energy Recharge e vi permette di riutilizzare l'abilità elementale. Spadone è interessante magari su una Beido, ma che al contrario dell'arco non ha allo stato attuale di gioco degli utilizzi più concreti. Si può usare anche su Dory, non è una brutta arma, è semplicemente che abbiamo molti più archi che sfruttano l'arco da guerra rispetto a Claymore, ma perché ci sono più supporti che usano l'arco rispetto a supporti che utilizzano la Claymore. È comunque un'arma molto buona, io spero che in futuro diventi ottima, ovvero che arrivino più utilizzatori di quest'arma, e poi rimangono le due armi a quattro stelle che mi piacciono un pelino meno di questo banner. Allora, la pinna del frangionde non è male e tra l'altro è una lancia limitata, quindi attenzione perché si potrà ottenere solo in questo frangente e solo finché è in rate up. È una lancia molto offensiva, adatta magari a una Shanling o anche a una Raiden. C'è il problema che ci sono generalmente lance migliori, soprattutto a rarità più alta, e poi per quanto riguarda le lance free to play sapete che c'è sempre questa benedetta The Catch, che mi pare che in italiano si chiamerà La Presa, credo, e sapete che La Presa è una lancia che potete ottenere comodamente, che è fortissima su tutti gli eventuali personaggi che possono giocare la pinna del frangionde. Questo non rende la pinna un'arma brutta, ma è un'arma che ha meno vantaggio rispetto alle altre che vi ho citato. Infine abbiamo l'arma con assoluto meno valore del banner, ovvero l'Occhio della Percezione. L'Occhio della Percezione è un catalizzatore che è inferiore da ogni punto di vista al Weed Seat. Il Weed Seat, non ricordo come si chiama in italiano, credo, Echi degli Erranti. Per questo video fatemelo chiamare ancora Weed Seat, ok? Comunque è quel bel tomo che vi dà crit damage e che ha degli effetti vari in base a quando entrate in campo, vi può aumentare l'elemental mastery, vi può aumentare i danni elementali, no? Ecco, quel tomo lì è molto più forte dell'Occhio della Percezione. Stessa rarità, ovviamente l'Occhio della Percezione perde. È sicuramente l'arma a quattro stelle che mi piace meno di questo banner. A livello di valore assoluto le migliori per quanto mi riguarda sono le armi Favonius e la spada sacrificale. La migliore in assoluto per me è l'arco di Favonius, veramente un'arma fortissima, la gioco tuttora, top, top, top. Parliamo velocemente delle 5 stelle. Allora, la spaccaroccia e corno rosso è probabilmente la Claymore più forte del gioco, è una delle armi più forti del gioco. Questa Claymore su It to and Noel è senza senso, ve li trasforma, ve li trasforma! Non ci sono altre armi che permettono a quei due personaggi di performare come con questo spadone qui equipaggiato. È veramente una spada fortissima e vi dirò di più. È anche una spada, anzi uno spadone, versatilissimo. Perché io questo spadone lo gioco su Diluc, io questo spadone lo gioco su Eula. Lo so, non sono personaggi che utilizzano la difesa, ma quel bonus al crit damage che vi dà più di 80% di crit damage a livello 90 è troppo grosso. È troppo grosso ragazzi, questo spadone è incredibile, se lo trovate ringraziate, veramente fate l'appello di tutti coloro che vi proteggono dall'alto dei cieli perché è un'arma incredibile, vi servirà sempre, fortissima. Su chiunque la mettete, tutto quel crit damage è una manna dal cielo. State solo attenti poiché è una Claymore con un attacco base un pochino sotto la media, quindi cercate di bilanciare l'attacco del personaggio che la impugnerà tramite gli artefatti. La rimembranza di Tullia Tulla è invece la nuova arma che debutta con il Wanderer, adesso ve la faccio vedere nel dettaglio e commentiamo il suo effetto. Eccola qui direttamente dal Twitter ufficiale di Genshin Impact, purtroppo c'è solo in inglese, in italiano non l'ho trovata, ve la traduco io, poi per le prossime volte spero di essere in grado di trovare tutto direttamente in lingua italiana. Allora, quest'arma qua vi dà crit damage 44.1%, quindi un buon bonus, non a livello del bonus della Red Horn, ma è sicuramente un buon bonus, e ha un attacco base parecchio alto. Aumenta del 10% la velocità degli attacchi normali. Inoltre, quando il personaggio che la impugna utilizza un'abilità elementale, i danni degli attacchi normali aumenteranno del 4.8% ogni secondo per 14 secondi. Dopo che il personaggio colpisce un avversario con un attacco normale, i danni degli attacchi normali aumenteranno di un ulteriore 9.6% e questo effetto di aumento si può scatenare una volta ogni 0.3 secondi. Il massimo di bonus al danno ai colpi normali che si può ottenere è di 48%, e questo effetto viene rimosso se chi utilizza quest'arma lascia il campo. E utilizzare l'abilità elementale di nuovo va a resettare tutti i bonus al danno. Allora, quest'arma qui sicuramente sul vagabondo è molto forte. È un'arma da mitraglietta, no? Personaggi che utilizzano tanto gli attacchi normali godono molto di questo catalizzatore. Al momento ci sono tre esempi che mi vengono in mente, ovvero il vagabondo, Eizo e anche Klee. Quindi, sebbene Klee, secondo me, riesce a sfruttare quest'arma meno degli altri due, perché gli attacchi normali di Klee sono veramente lenti. Ci piace il fatto che ci sia un aumento della velocità di attacco, ma non aspettatevi che lei vada a sfruttarla al 100%, anche perché Klee ha dalla sua un ottimo colpo caricato. Purtroppo questo colpo caricato non lo andiamo a potenziare, è la parte più interessante del suo kit. È un peccato non sfruttarla. Al contrario, il vagabondo e Eizo vanno a utilizzare quest'arma davvero molto bene. Eizo con le sue combo di pugni, il vagabondo con le sue combo di lame. Non la ritengo comunque un'arma imperdibile. Devo dire che con i tomi, e questo discorso si estende anche al tomo di Naida, stanno tenendo un po' il freno tirato. Non sono ancora usciti tomi del calibro della spaccaroccia corno rosso o della lancia di Raiden o dell'asta di Oma, ok? Con i tomi si tengono un pochino più bassi, questo è un tomo sicuramente molto carino, non fortissimo su tutti i personaggi che lo impugnano. È bello il fatto che sistemi il crit damage, sebbene il bonus non sia gigante, ed è sicuramente un tomo che consiglio a tutti coloro che vogliono evocare il vagabondo. Questo banner armi, secondo me, è da farci almeno un piti nel caso in cui siate interessati al vagabondo e non possediate la spaccaroccia corno rosso. In quel caso, dove prendete, prendete benissimo. Perché la corno rosso è fortissima e la rimembranza sul vagabondo è fortissima. Non so ancora se sia l'arma migliore su di lui, presumo di sì, però sicuramente il vagabondo avrà anche altre alternative. Nel caso in cui, invece, non vi interessa il vagabondo e non siate dei giocatori di Eizo, allora diciamo che il valore del banner si abbassa leggermente. Dico leggermente perché comunque, lo so che ve l'ho già detto 500 volte, ma ve lo ripeto, la corno rosso è un'arma veramente fuori di testa. Le quattro stelle sono carine, ma non eccezionali. Nel complesso, questo è un buonissimo banner, trainato da quello spadone in maniera incredibile, ma non è un banner dove consiglio a tutti di andare proprio alla cieca. Ribadisco, dovete valutare sulla base di quanto vi può servire la rimembranza di Tullia Tulla. E detto questo, basta. Io spero di essere stata sufficientemente esaustiva. Spero che abbiate gradito le mie informazioni e fatemi sapere qua sotto nella sezione commenti che cosa ne pensate voi di questi banner. Se evocherete, per chi evocherete, o se invece preferite risparmiare e tenere le primo gems per altri personaggi che usciranno in futuro. Da Jull, Il Vagabondo, Aratakito, Faru Zan, Goro e Yanfei è tutto. Buona fortuna a tutti e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao! Ciao!